Nuova settimana, nuovo mercato nero di Mauriz. Questa settimana ci troviamo alla periferia di Meridian e il mercato nero è estremamente vicino. Vediamo il percorso. Vi ricordo di iscrivervi nel caso non lo siete ancora per non peddervi il mercato nero di Mauriz quando cambierà posizione e contenuto la prossima settimana. Inoltre se volete supportarmi e attiva la funzione abbonamenti di questo canale a un prezzo bassissimo. Detto ciò per quanto riguarda il percorso è estremamente semplice. Dallo spawn del garage fino alla base di Lorelai. Fina. Non c'è niente di difficile ed è curtissimo. Questa settimana nel mercato nero di Mauriz troveremo il cecchino leggendario Tanksman Shield, una delle robe peggiori presenti nel gioco, non prendetelo per nessun motivo. SMG leggendaria Predatory Landing, relativamente inutile davvero, non ne vale la pena, anche se l'abilità è carina. E infine il punto forte di questa settimana. Lo shotgun leggendario Butcher dà le munizioni infinite, molto molto utile in diverse build.